Criptografia In particolare dopo una lunga introduzione più che necessaria Nel caso di Apple FBI che altrimenti non potreste capire a pieno Premetto che cercherò di approfondire almeno possibile ogni argomento Altrimenti uscirebbe un talk di ore Chiedo scusa fin da ora in caso vi annoierò O anche in caso di eventuali dimenticanze o inesattezze Spesso quando parlo di criptografia a qualcuno Questo mi risponde dicendo che non ha nulla da nascondere E per questo non è interessato la privacy Questo è come dire che se non hai nulla da dire Allora non ti porti ad avere o meno il diritto di parola Il fatto che tu credi di non avere bisogno o di non avere nulla da nascondere Non significa che questo sia vero Proviamo un attimo a pensarci Quanti di voi girando tra i vostri file si sono trovati a dire Ops, questo è meglio che resti privato Oppure questo è meglio che lo cancello Nessuno? Va bene, allora allarghiamo il campo Chi di voi qua nei commenti mi scriverebbe Nome e cognome Residenza Numero di telefono Relazioni Amici e parentele Beh, qui immagino che molti non lo farebbero Ma andiamo ancora più a fondo Chi di voi mi darebbe la possibilità Di conoscere ogni suo singolo spostamento in tempo reale? Oppure la possibilità di ascoltare in qualsiasi momento le sue discussioni Vederlo senza che lo sappia Leggere tutto quello che scrive Vedere tutto quello che legge Conoscere impegni Password Tracciarlo in ogni sua singola mossa giornaliera? Beh, nessuno, vero? Peccato che questo già vi succede Senza che nemmeno ve ne rendiate conto Facebook, i vostri computer I vostri smartphone soprattutto Addirittura molte smart tv Questi strumenti sommati fanno tutte queste cose Senza che nemmeno ve ne rendiate conto E sapete cosa firma un malintenzionato? Beh, la criptografia Beh, perché sì Voi fate uso di criptografia Senza nemmeno rendervene conto Perché il tutto accade in modo trasparente all'utente SSL, TLS e l'esempio più comune Il protocollo TLS Prima di due SSL Consente alle applicazioni client server Di comunicare attraverso una rete In modo tale da prevenire Tampering Ovvero la manomissione dei dati La falsificazione E l'intercettazione Tutti quei dati che vi ho citato E molti altri Ogni giorno viaggiano in rete Tramite i servizi di cui fate uso Se non fossero cifrati Tutto questo traffico Potrebbe con molta probabilità Finire in mano a persone Con idee ben poco carine E simpatiche Pensate a una connessione Paypal O un conto in banca Senza SSL, TLS A garantire che State parlando veramente Con il server di Paypal O della banca E senza la sua cifratura La vostra password E quindi i vostri soldi Finirebbero in mani altrui Ecco perché Prima parlavo anche di password Ma questo è solo un esempio Dei tanti che avrei potuto portarvi Se dovessi criticare Altri tipi di servizio Criticherei Ad esempio il cloud Ormai questa moda Dei dati in rete Ha preso piede Nonostante tutti i rischi correlati Tralasciando il rischio Di vedersi cancellare I dati che si credevano al sicuro Tralasciando avere dati Su dei server Che poi server si può Tratturare in pc Di qualcun altro E già questo dovrebbe Farvi storcere il naso Chi vi assicura Che le vostre foto Video documenti Personali Non finiscono in mani sbagliate Se per voi questo Non è un problema Beh diciamo che A vedere da come Instagram e i social Sono pieni di queste cose Che voi stessi caricate Allora vuol dire che Qualcosa è andato storto Nella concezione di privacy Che vi hanno inculcato Senza che Come al solito Ve ne rendeste conto Qual è l'unica cosa Che potete fare Se volete mettere in cloud Qualcosa Tramite servizi di terze parti Con la certezza Che sia visibile Solo a voi Quando andate A recuperare quel dato Cifrare con criptografia forte Beh oltretutto Vi siete mai chiesti Perché certi servizi Offrono spazio Su loro serve gratuitamente Perché le informazioni Valgono E valgono anche molto Nessuno regala niente A questo mondo Però Questo non è Il video adatto Per parlare del mercato Che c'è dietro i dati Che voi regalate Ogni giorno A questi individui E con cui Li fate fare Non pochi soldi Se ancora non basta Tu che mi stai ascoltando Tu che dialoghi con me Magari non ti preoccupi Della tua privacy Ci pensi che Nel momento in cui Scambio un messaggio Un file con me Rinunciando alla tua riservatezza Molto probabilmente Stai aiutando ad altri A violare la mia privacy Non pensi che Tu sei il primo A non rispettare Il mio diritto Di riservatezza La scelta di utilizzare O meno la criptografia Va a influire Anche sulle persone a te vicine Ecco perché Tutti dovrebbero farne uso Ma un uso corretto E con gli strumenti giusti A questo punto Però qualcuno Starà pensando Ma i terroristi Beh questa è una cosa Su cui fanno pressione Tutte le agenzie governative Che hanno interesse Ad avere sotto controllo L'intera popolazione E no Non si sta parlando Di complottismo Com'è vero Che a nessuno interessa Cosa mangerai questa sera E anche è vero Che se tutti iniziassero A criptografare I propri file Dati Comunicazioni A quel punto Quello che qui viene definito Come il grande fratello Si troverebbe di fronte A una mole di dati Gigantesca In cui non potrebbe Ficcare il naso Questo è uno dei motivi Per cui si cerca Di spaventare la popolazione Dicendo che la criptografia È male Perché hanno paura Di non poter più schedare E controllare Un singolo individuo Noi invece dovremo Fare uso in modo Da caricare Così tanto di lavoro Queste persone Al punto che i loro Tentativi d'attacco Vengano resi impossibili Per la troppa mole Di dati da analizzare Pensate anche solo Agli attivisti politici Ad esempio Noi oggi possiamo dire La nostra Senza avere troppa paura Che è quello Che ci potrebbe accadere Ma un domani Veramente Volete dare la possibilità A qualcuno Di controllarvi Al punto di limitare La vostra libertà In un ipotetico futuro Io credo proprio di no Torniamo alla questione Terroristi Tralasciando il fatto Che il controllo indiscriminato Di ogni singolo individuo Non è accettabile E fidatevi Ci provano a farlo Non ufficialmente Ma NSI Caso Snowden Già gli dicono tutto Un terrorista Non rispetterebbe Di certo una legge Che li vieta La criptografia Controllare tutto il traffico Oltretutto Non è fattibile Causa Wi-Fi pubblici Reti penetrabili Ed è pieno Sim anonime O intestate a prestanome Connessioni aperte E soprattutto I troppi dati in rete Ora per assurdo Facciamo finta Che tutti i precedenti Canali di comunicazione Siano possibili Da controllare Beh A questo punto Le care vecchie onde corte Sono ancora sfruttabili Come è sfruttabile La trasmissione Di dati via radio E quindi senza L'utilizzo di internet E come è ancora sfruttabile La comunicazione Tramite on-time pad E number station Perché non sono cose Immontate per film Creepypasta O intrattenimento Le number station Venivano E vengono ancora Oggi utilizzate E non è possibile Sapere cosa trasmettono In caso fanno uso Di un tipo di criptografia inviolabile Vorrei anche farvi notare Che oltretutto Si è scoperto Che molti attentati Venivano coordinati Tramite sms In chiaro E che addirittura Uno dei pc Degli attentatori Del belgio E' stato trovato Privo di qualsivoglia criptografia Conteneva addirittura Una cartella Chiamata target Quindi Nessuna cifratura Dati in chiaro E nessuno ha potuto fare niente Per prevenire l'attentato Questo dimostra Che la sorveglianza A tappeto E' inutile Oltre che essere lesiva Solo Della libertà E della privacy Del cittadino Quindi A chi stanno cercando Di togliere la criptografia Perché vogliono mettere Backdoor Nei prodotti E nei servizi Che utilizziamo tutti i giorni Quando i terroristi Nemmeno usano Questi strumenti E comunque hanno Standard sicuri Disponibili Anche già pronti A resistere A computer quantistici Ma poi E' conveniente O ragionevole Inserire una backdoor In schemi di criptografia Standardizzati Lo vedremo dopo Iniziamo dicendo Che le tecniche Criptografiche moderne Non sono rompibili Non si applica A luogo comune Del applica abbastanza forza Prima o poi Qualcosa succederà Citando Alessandro Barenchi Nel suo talk Intitolato Se l'avessi saputo prima Avrei fatto Il fabbro ferraio Che vi consiglio Vivamente di vedere Perché da qui in poi Utilizzo molto I suoi esempi Parliamo In questo Preciso istante Di un cifrario Simmetrico Ovvero Una chiave Per tutto Ho una cassaforte Prendo il messaggio Lo chiudo lì dentro Scombino la combinazione E la spedisco con DHL A mia mamma Che è persona fidata E quindi conosce la combinazione Riceve la cassaforte Usa la chiave Apri e legge Mamma torna tardi Stasera la cena Me la scalda Le microonde Ok Ora prendiamo ad esempio Un cifrario Asimmetrico Io ho tante Casseforti Di cui conosco La combinazione Le lascio aperte In giro per le strade Chi mi vuole mandare Un messaggio Lo mette in una di queste Chiude la porta Scombina il nottolino E me la manda Lui non sa che combinazione Ha quella cassaforte Però ha mandato Un messaggio sicuro Senza sapere La combinazione Un avversario Quanto lavoro Ci deve mettere Per aprire Questa cassaforte Senza conoscere La combinazione La risposta È troppo Quantifichiamo L'energia necessaria Senza usare Quella brutta cosa Chiamata matematica Paragoniamo I bit di chiave Dei vari algoritmi Allo spessore Della parete Di una cassaforte Iniziamo con Skipjack 80 bit di chiave Che equivale A una parete Spessa 18.000 km Qualcosa come Tre volte Il diametro Della terra O per i fan Di star trek 3000 cubi borg Messe in fila Uno dopo l'altro Direi che questo Non è fattibile Da bucare AES 128 bit Parete spessa 33.88 10 alla 18 km Che faremo Prima ad esprimere Nanni luce Ovvero 33 volte La via latia Messa una dopo l'altra Per diametro Ovviamente Questo perdonatemi Francesismo Ma col cazzo Che lo buchi Ci si potrebbe Fermare qui Ci vogliono 10 anni Per bucarlo Però Io ancora Non mi fido Quasi quasi Uso AES 256 bit AES 256 È un 10 alla 30 volte Più grossa Dell'universo visibile Diciamo che È una bella Casaforte Da quel bel senso Di sicurezza Quella sensazione Di calore interiore Che solo un numero A 30 cifre Dopo la dimensione Dell'universo Può dare Questo è considerato Sicuro per 20 O più anni La forza bruta Non si applica Se cifro Mamma torno tardi Mi scaldo la cena In microonde Nessuno può leggere Senza la vostra chiave I dati Senza questa Sono buoni Tanto quanto Coprirli di zeri Tutto questo ovviamente Con una chiave Che non sia 1234 O Billy O il nome del cane Del vostro vicino Esiste una scorciatoia? Beh sì I computer quantistici Per queste macchine Abbiamo la teoria Pronta dal 92 Ma serviranno ancora anni Prima di averne Uno utilizzabile E no Quello di Google E compagnia bella Si accende E fa i conti Ma non è Proprio pronto Diciamo Sta roba Ha fattorizzato Il numero composito E Ha fatto 15 4 bit Ha fatto sorprendentemente 3 per 5 Si può fare anche a mano Però sapete È meno divertente Ora Eviterò di parlare Di come funzionano Perché immagino Di avervi fatto Due palle Dirigibili Già adesso Per decifrare Un asimmetrico Beh un computer quantico Se lo mangia A vero non avere la chiave Non gliene frega niente Viene rotto Con la stessa velocità Con cui tu cifri Questa è una cosa Molto brutta La paranoia È più che giustificata Visto che ad esempio Pgp diventa inutile Ma tranquilli Ci vorranno Dei 10-100 anni Per avere uno Veramente funzionante E i criptografi Stanno già lavorando A un sostituto Per questi cifrari Ad esempio Già esiste Un sostituto Per Diffelman Il ring LVE Qualcuno di voi Si sta chiedendo Che è Diffelman Troppo lungo Vi basta sapere Che mettendola giù Molto cruda È un protocollo Criptografico Che consente A due entità Di stabilire Una chiave Condivisa Secreta Utilizzando Un canale Di comunicazione Insicuro Per decifrare Un simmetrico Invece si dimezza La lunghezza Delle chiavi Quindi noi le raddoppiamo E siamo a posto Usando AIS-256 Per un computer quantistico Vorrebbe dire L'equivalente Di rompere AIS-128 Che se vi ricordate Sono sempre Quelle 33 vie latte Di spessore Di pareti Di cassaforte Quindi Capirete che Questo scalda Sempre il cuore Ed è più che accettabile Come un grado di sicurezza Se usate cifrari Simmetrici Questi rompescatoli Di computer quantici Nemmeno li sentite arrivare Ora arriviamo A quello che Credo aspettavate Conviene metterci Backdoor Visto che Nemmeno i computer quantistici Bucano un cifrario simmetrico E per gli asimmetrici Si sta cercando Di mettere una falla Si sta lavorando Per sostituirli È ragionevole Visto che qualcuno Poi potrebbe utilizzarli Per brutte cose Beh Effettivamente Se io faccio dei coltelli Per tagliare le bistecche Nessuno vieta qualcuno Di utilizzarli Per lanciarli dietro Ad altre persone Fati del male Questo è più o meno Il discorso Che molti di voi fanno Però Per farvi capire Perché non si possono Mettere backdoor Riprendiamo La nostra cassaforte Di prima Mettere una backdoor È intelligente Quanto mettere In un cavo di una banca Una bella sezione Di cartonato Inserire una backdoor A scorciatoie È considerato Dall'intera comunità Crittografica Una boiata Ronald Rivest Edi Shamir Whitefield Diffi Martin Hellman E Moz Martin Spike Ovvero Quattro Turing Award Quattro Nobel Per informatica E uno dei più Importanti sviluppatori Di software Crittografico Vi dicono Che questo Non va fatto Che è Un'enorme Cazzata Se la sezione Di cartonato Invece To La vernicio Bene di metallo In modo che Non sia visibile A prima vista Se ci metto Un bel astrino Di metallo In modo che Se busso Non si sente Che cartone Sembra solido Se nascondo Una vulnerabilità Non è che ha Smesso di esserci Se pitturo La sezione In cartonato Non smette Di esistere Solo perché Non è più visibile Se qualcuno Si accorge di questa cosa E non sono io Che l'ho messa Beh Non faccio neanche il tempo Di accorgermene Che la stavo già usando E sono cazzi Cazzi amari Questo è gravissimo Perché oltretutto Sto dando anche l'impressione Che la mia cassaforte Sia solita Quando in realtà Non lo è per niente Purtroppo è anche capitato E' stato fatto Un generatore Di numeri casuali Che poi Tanto casuali non erano Questo si è tradotto In articoli scritti male Dove si diceva Che NSA bucava Qualsiasi cifrario Senza spiegare le motivazioni Per fortuna Si è scoperto E non l'hanno usato In molte persone Dato che con 20 byte Si sapeva cosa avrebbe generato Da lì in avanti Per sempre Una soluzione Che alcuni di voi Potrebbero suggerire Allora a questo punto E' fare le casseforti Con le pareti Meno spesse No? Tanto poi le dismetto Faccio un altro cifrario No Esistono ancora oggi Siti che accettano Connessioni Tra molte virgolette Sicure Con un vecchio cifrario RSA 512 Che si traduce Per la questione Della spessore Della solita cassaforte In 4 cm Di metallo Quindi D'ora in poi Lo chiameremo RSA 4 cm Il nostro bellissimo RSA 4 cm E' del 1992 Nel 2015 C'era ancora Un 36,7% Di siti Che lo utilizzava Per le connessioni Apro virgolette Sicure Chiudo virgolette Perfect NSA.gov E Whitehouse.gov Accettano questo tipo Di connessioni E qui Dopo tutta quanta Questa bellissima Introduzione Chilometrica Arriviamo a quello Che volevate sapere Problema di FBI Contro Apple Ovvero Se io sparo a qualcuno E ci sono informazioni Cifrate su un qualche dispositivo Come facciamo? E diventa un problema L'FBI diceva Che senza Apple Non poteva decifrare L'iPhone del killer Del San Bernardino Beh Snowden ha risposto Con rispetto Sono stronzate Non si sta più Attaccando al cifrario Come entità matematica Ma ho un pezzo di ferro In cui è saldata la chiave E se non ho Se non sono Troppo Gentile Se non ho Dele buone maniere Con questo povero hardware Posso estrarre In determinati casi E l'iPhone è uno di questi Le chiavi Si attacca L'implementazione E non il cifrario Oltretutto Le prime pubblicazioni Su questi metodi Sono proprio di FBI ed NSA Cercate Tempest e NSA Su Google E vi fate un'idea Questo fa capire Che la loro Era solo Una scusa Per cercare Di creare Un precedente legale Con cui poi Costringere chiunque A infilare Backdoor Nei sui prodotti O algoritmi E cosa si diceva Delle backdoor Di poco fa? Apple Per la prima volta Ha la mia stima Per non aver ceduto A una cosa del genere L'FBI Non richiedeva L'accesso A un singolo dispositivo Ma un passport Oltre che A un'arma legale Da utilizzare Sempre e comunque Mettendo rischio La sicurezza di tutti Spero che dopo Questo video Vediate la Crittografia In modo diverso E che non Crediate a tutte Quante le scemenze Su sicurezza E porcate varie Che certi media Politici E compagnia bella Vogliono far passare Per vere Come dicevo Già in precedenza Per questo video Mi sono ispirato Moltissimo Al video D'Alessandro Barenghi Che già vi ho citato Precedentemente E vi metto In descrizione Bene Grazie per avermi ascoltato Fino adesso E al prossimo video